Non pensate che il sesso sia sempre tutto rose e fiori, a volte anche seguendo i dettami del Kamasutra qualcosa può andare storto ed essere decisamente doloroso. Alcune delle posizioni riportate nell'antico libro infatti nascondono potenziali pericoli per la salute fisica dell'uomo e della donna. Volete sapere quali? Beh, sappiate innanzitutto che la posizione del culturista si chiama così per un motivo ben preciso. L'uomo deve avere notevoli doti fisiche di resistenza, altrimenti rischia di mollare la presa e fare del male a se stesso e alla sua partner. La posizione del Triple Lindy lasciatela a chi ha un equilibrio inattaccabile anche sotto sforzo, consigliato a stenersi se non sia circensi o ballerini classici. Più fattibile la London Bridge, ma anche qui ci vuole un uomo con polsi e caviglie di ferro e una passione per il sangue al cervello. Le posizioni delle gambe inclinate e della tenaglia richiedono tutte queste cose messe insieme. Equilibrio, forza e una bella dose di concentrazione. Siete sicuri di sentirvela?